Buongiorno dalla Fratelli Bonaventi SPA di Manerbio e Orzinuovi, chi vi parla è sempre Mauro Bonaventi. Colgo l'occasione personalmente di ringraziare a nome mio e a nome dell'azienda che rappresento tutti i visitatori di questa per noi interessante vetrina virtuale. Oggi, addirittura in anteprima assoluta italiana, vogliamo farvi scoprire la nuova Opel Corsa, vettura arrivata ormai in maniera orgogliosa alla sua quinta generazione. Pensate che dal 1982 ad oggi ne sono state vendute più di un milione e mezzo di unità e sono numeri che sicuramente fanno parlare di questo prodotto. Il design esterno è l'aspetto più interessante del nuovo prodotto nonostante abbiano voluto mantenere questa continuità di linee con quella che è stata la serie precedente che per noi ha comunque dato ottimi e sta dando tuttora ottimi risultati. Vediamo come nella parte anteriore siano stati completamente ridisegnati i gruppi ottici con questa forma ad ala, la nuova logo bar frontale, la nuova griglia che si inserisce in questo paraurto completamente ridisegnato. Anche il cofano, anch'esso completamente ridisegnato, con queste norvature che stanno a enfatizzare il carattere sportivo e dinamico della vettura. Anche lateralmente la vettura presenta novità come questa importante nervatura che ormai noi in gergo chiamiamo lama Opel che è un elemento che va a contraddistinguere tutti i prodotti di ultima generazione appunto della gamma Opel stessa. Anche nella parte posteriore notiamo come abbiano lavorato sempre sul gruppo ottico, ridisegnato completamente il portellone posteriore e anche qui un nuovo paraurto che rende le linee molto più decise ed attuali. Altra novità assoluta sono gli interni, infatti gli ingegneri hanno lavorato per riprogettare completamente spazi e materiali proprio per trasmettere una qualità ed un comfort di vettura superiore e diciamo che un livello di percezione comfort che la nuova corsa riesce a dare è unico per quelle che sono le vetture di questo segmento. Parliamo di nuove plastiche soft touch che anche al tatto trasmettono una qualità elevatissima, una nuova plancia, un nuovo volante ergonomico multifunzione, un nuovo quadro strumento, e sempre nella parte della console centrale notiamo la nuova radio IntelliLink che abbiamo già avuto modo di scoprire su Adam, nuovo sistema multimediale capace di interfacciare gli smartphone di ultima generazione e rendere gestibili in maniera molto semplice le chiamate, la musica e anche diverse applicazioni fra cui una molto interessante scaricabile direttamente da internet di navigazione denominata Bring Go. Altra novità assoluta sono i motori, anche sotto il cofano notiamo delle belle sorprese, infatti i nuovi motori sono tutti Euro 6, tutti con catena di distribuzione che abbassa notevolmente i costi gestionali della manutenzione che oggi giorno vanno presi decisamente in considerazione e tutti dotati del sistema start and stop capace di ridurre i consumi e le emissioni di un comodo 20% rispetto a motori della stessa cilindrata. Sono nuovi anche i cambi, dunque le trasmissioni che possiamo trovare a 5 o a 6 rapporti con la possibilità di avere sia cambi manuali e sia cambi automatici. Diciamo che per concludere bastano pochi aggettivi per enfatizzare quello che è il nuovo prodotto Corsa, siamo di fronte a una macchina dinamica, un design sportivo, una qualità elevata per il segmento e praticità perché in 4 metri la vettura è stata completamente riprogettata, tale per dare anche dei comfort interni decisamente ottimali e con nuova Corsa possiamo definire che è finita l'era delle city car e tutto questo lo troviamo materialmente ad un prezzo accessibile. Non mi resta che salutarvi informandovi che la presentazione, infatti questa è solo un'anteprima che Opel Italia ci ha concesso per permettere di iniziare a far conoscere ai nostri clienti ed utenti il nuovo prodotto Corsa, la presentazione ufficiale sarà il 18 ed il 25 gennaio 2015. Dunque vi aspettiamo dopo le feste e per questo anche tanti auguri a tutti per conoscere e scoprire insieme o a Manerbio o a Dorze Nuovi la nuova Opel Corsa.